Il fenomeno delle baby gang in Puglia sta diventando particolarmente preoccupante, con ripercussioni evidenti sulla vita dei ragazzi e ragazze, specialmente nel settore scolastico. A tale proposito se ne è fatto portavoce ed interprete il garante regionale pugliese sui minori a Baticchio, sottolineando che nella maggioranza dei casi si parla di eventi gravi e a volte anche luctuosi. L'inconsistenza dei governi nazionali, che in questi quarant'anni non ha prodotto nulla sul piano legislativo nazionale, può essere superato solo affrontando il tema del benessere sociale attraverso nuove leggi e quanto mai necessaria, dice a Baticchio, una produzione legislativa seria, complessiva e fortemente esecutiva, adatta ad affrontare alla radice il problema strategico della formazione e della informazione giovanile.